Nel 1963, sull'American Journal of Psychiatry, apparve un articolo a firma dello psichiatra J.M. MacDonald in cui veniva teorizzata una triade di comportamenti psicologicamente riconosciuti come campanello di allarme della psicopatia. Gli studi dell'epoca avevano evidenziato che la piromania, ovvero l'intensa ossessione per il fuoco, l'enuresi notturna, fare cioè la pipì a letto, superata l'età in cui è normale farlo, e infine lo zossadismo, ovvero la crudeltà verso gli animali con torture e uccisioni, erano tre specifici comportamenti presenti nell'infanzia della maggior parte dei serial killer. Col tempo, molti ricercatori hanno messo in discussione la triade di MacDonald, ma ancora nessuno ha saputo rispondere alla domanda più spaventosa di tutte. Assassini, si nasce. Sono Massimiliano Iattoni dalla Zen e questo è Dark Souls. Questa storia dell'orrore inizia il 27 settembre 1972. È un mercoledì e la scuola è ricominciata già da un mese e mezzo in Florida, ma a Fort Lauderdale, 40 chilometri a nord di Miami, i pomeriggi hanno ancora tutta la bellezza dell'estate, sole splendente e aria frizzante che arriva dall'oceano. Susan Place, 17 anni, e la sua amica Georgia Gissap, di 16, decidono che di compiti ne hanno fatti abbastanza per quel pomeriggio. Ora hanno voglia di uscire. Nel salutare la mamma di Susan, dicono che se ne andranno in spiaggia a suonare la chitarra. Fuori dalla porta di casa, un uomo le attende seduto in auto. La mamma di Susan, Lucille Place, è però inquieta. C'è qualcosa in quella figura in ombra all'interno dell'auto che l'allarma. Allora chiede a Susan e a Georgia chi sia quell'uomo, ma le ragazze stanno già correndo fuori casa. Si chiama Jerry Shepard, grida Susan, mentre chiude la porta alle sue spalle. Lucille fa in tempo ad annotarsi il modello dell'auto, una Dazion di color turchese, prima che scompaia in fondo alla strada. Questa è l'ultima volta che qualcuno vedrà vive Susan e Georgia. La sera stessa, i genitori delle ragazze ne denunciano la scomparsa. Lucille dà alla polizia la descrizione dell'auto e il nome dell'uomo, così come le è stato detto dalle ragazze. Ma al registro automobilistico della Florida non risulta nessun Jerry Shepard, proprietario di una Dazion di color turchese. Sulla scomparsa delle due ragazze, derubricata come volontaria, cala momentaneamente il silenzio. Il 23 ottobre 1972, meno di un mese dopo la scomparsa di Susan e Georgia, due studentesse di 14 anni, Mary Briscolina ed Elsie Farmer, si trovano sulla strada che da Fort Lauderdale porta alla zona commerciale di Pompano Beach. Le due adolescenti hanno deciso di fare autostop per raggiungere i negozi vicino alla spiaggia e fare un po' di shopping. Nel romanzo di Jack Kerouac sulla strada del 1957, riconosciuto come uno dei manifesti della Big Generation, l'autostop compare spesso. È il mezzo di trasporto preferito da Dean Moriarty, il protagonista, e quello utilizzato per la maggiore dai ragazzi che tra gli anni 50 e gli anni 70 del secolo scorso volevano mettersi in viaggio lungo le strade dell'America. Due ragazzine dunque che chiedono l'autostop nei pressi di Fort Lauderdale in un pomeriggio di ottobre dei primi anni 70 è un'immagine così comune da non attirare lo sguardo dei passanti. Ed è così, nell'indifferenza generale, che Mary ed Elsie salgono su un'auto che si è fermata davanti al loro pollice alzato. Da quel momento anche di loro due si perdono le tracce. A scomparire l'8 gennaio del 1973, sempre facendo l'autostop, sono Collette Goodenough e Barbara Wilcox, entrambe di 19 anni, in viaggio dall'Iowa alla Florida. Nessuno pensa di collegare la loro scomparsa a quella delle altre quattro ragazze, fino al giorno in cui, il primo aprile 1973, a Hutchinson Island, una delle strette e lunghe isole che fanno da barriera alla costa della Florida, tre uomini che stanno raccogliendo lattine e immondizia su una delle più belle spiagge dello Stato, scoprono i resti di due corti. I cadaveri sono in avanzato stato di decomposizione, ma è evidente che sono stati decapitati prima di essere sepolti e mostrano ancora i segni sulle ossa di un inizio di macellazione. Analizzando la scena del delitto e rinvenendo i resti di una corda su un ramo lì accanto, gli inquirenti stabiliscono che le vittime sono state legate a un albero prima di venire massacrate. Sarà poi il medico legale a confermare che si tratta di due adolescenti e grazie alle impronte dentarie a dare loro un nome. Sono Susan Place e Georgia Gissap. Davanti ai poveri resti di Susan e Georgia, la polizia è costretta ad indagare più seriamente sulla Dutton color turchese segnalata dalla madre di Susan. Finalmente, dopo sei mesi dalla loro scomparsa, dal registro delle automobili della Florida, gli inquirenti riescono a risalire a un uomo che possiede un'auto identica. Non si tratta però di Jerry Shepard, ma di Gerard Schaeffer, un poliziotto che l'anno precedente è finito in cella per aver aggredito due adolescenti. La storia del vice sceriffo Schaeffer è grottesca e per raccontarla dobbiamo mandare indietro l'orologio fino al pomeriggio del 21 luglio 1972. Quel giorno il 26enne Gerard Schaeffer, assistente dello sceriffo della contea di Martin, è di pattuglia quando incrocia due ragazze Nancy Trotter, di 17 anni, e Paula Wells, di 18, che grazie all'autostop dal Michigan stanno raggiungendo la spiaggia della Florida. Schaeffer accende i lampeggianti dell'auto di ordinanza e ferma le due ragazze. Scambia con loro quattro chiacchiere, istruendole sui pericoli dell'autostop prima di accompagnarle in un ostello. Schaeffer fissa anche con le ragazze un appuntamento per il giorno successivo. Dice di volergli far visitare le bellezze naturali della zona. In seguito, Nancy e Paula racconteranno di essersi fidate totalmente di lui perché era un poliziotto. Ma invece di un giro turistico, Schaeffer le porta in un bosco, in una zona deserta di Hutchinson Island, e dopo averle immobilizzate e imbavagliate, mette loro un cappio al collo che appende al ramo di un albero. Le ragazze faticano a rimanere in equilibrio sulle punte dei piedi. Basta sbilanciarsi un attimo e scivolare per rimanere impiccate. L'uomo grida loro che le venderà come schiave sessuali, che le ucciderà. Le ragazze terrorizzate si urinano addosso, mentre Paula rischia di soffocare nel suo stesso vomito. Ma una chiamata alla radiotrasmittente è la loro salvezza. Schaeffer deve tornare al lavoro. Lascia dunque le ragazze giurando loro che sarebbe tornato a breve per finirle. E così fa. Meno di due ore dopo è di nuovo nella boscaglia dove ha legato le malcapitate, ma Nancy e Paula non ci sono più. Le due ragazze sono infatti riuscite a liberarsi, a raggiungere la strada e a chiedere aiuto a un'automobilista. Schaeffer ora sa di essere in pericolo e cerca di giocare di anticipo. Prende la radio e chiama alla stazione di polizia raccontando di aver fatto qualcosa di stupido. Ma è troppo tardi. L'automobilista che ha raccolto Nancy e Paula le ha portate proprio dallo sceriffo di cui Schaeffer è vice, che lo convoca immediatamente. Schaeffer racconta di aver voluto fare uno scherzo alle due ragazze, spaventarle perché capissero i pericoli dell'autostop, ma le sue spiegazioni non convincono il suo superiore. L'uomo viene spogliato del distintivo e immediatamente arrestato. Accusato di sequestro e aggressione aggravata, Schaeffer viene rilasciato poco dopo con una cauzione di 15.000 dollari. Al processo, nel successivo novembre, si dichiarerà colpevole di aggressione, mentre gli altri capi d'accusa saranno ritirati. Il giudice definisce Schaeffer pazzo e lo condanna a un anno di prigione da trascorrere nel centro di reclusione della Contea, seguito da tre anni di libertà condizionata. Ma l'ex poliziotto inizierà a scontare la pena solo il 15 gennaio dell'anno seguente. Di fatto, dal momento dell'arresto alla condanna è stato un uomo libero, anche se su cauzione, e in quel lasso di tempo ha ucciso Susan Place e Georgia Gissa. Ma non solo loro. A questo punto, collegato il nome di Schaeffer alla Dutton turchese, i suoi ex colleghi tentano di metterlo sotto torchio. Ma l'uomo nega di aver mai avuto a che fare con le due ragazze, i cui resti però sono stati ritrovati nella stessa area dove Schaeffer ha tenuto sequestrate Nancy Trotter e Paula Wells. Le somiglianze del rapimento con i precedenti casi di sequestro e aggressione aggravata e la prova che Susan Place e Georgia Gissa erano state legate a un albero prima di essere uccise, fanno tenere alla polizia un mandato di perquisizione per l'appartamento di Schaeffer e della casa di sua madre. Nell'abitazione che l'uomo condivide con la seconda moglie non viene rinvenuto nulla di strano. Ma quando il 7 aprile gli agenti rompono nella casa della madre, la sua posizione cambia drasticamente. In quella che era la sua camera da letto da ragazzo viene rinvenuta una collezione dell'orrore. Dentro l'armadio e i cassetti gli agenti trovano gioielli da donna, ritagli di giornale che parlano di due ragazze scomparse nel 1969 e una sorta di diario delirante in cui l'uomo descrive stupri, omicidi e mutilazioni di corpi, il tutto corredato da orrendi disegni. In una scatola poi vengono rinvenuti dei denti e un centinaio di fotografie di donne e dello stesso Schaeffer con indosso biancheria femminile. Gli inquirenti allora iniziano a catalogare gli oggetti nel tentativo di risalire alle proprietarie. Col tempo si riuscirà a dimostrare che alcuni gioielli appartenevano a Carmen Hellock, una cameriera scomparsa pochi mesi prima. Altri verranno riconosciuti dai genitori di Mary Briscolina e molto più tardi una collana condurrà a Lee Bonadis, una vicina di casa di Schaeffer e sua compagna di scuola scomparsa misteriosamente nel settembre del 1969. I suoi resti verranno ritrovati quasi dieci anni più tardi nel 1978. Schaeffer era stato sentito più volte lamentarsi di Lee Bonadis, l'accusava di spogliarsi senza tirare le tende di casa e questo, diceva, era inaccettabile. E' a questo punto che gli psichiatri si buttano sulla vita del mostro. Si scopre così che Gerald Schaeffer è cresciuto in una famiglia animata da un cattolicesimo opprimente. Era stato un ragazzino solitario e introverso che amava torturare e uccidere piccoli animali domestici. Ecco il primo segnale, uno dei tre comportamenti anormali che secondo McDonald dovevano far scattare i campanelli d'allarme. Il padre, un uomo violento dedito all'alcol, apostrofava spesso la madre con epiteti come sgualdrina o puttana. L'uomo però era spesso in viaggio per lavoro e il giovane Gerard cominciò presto a farsi l'idea che il padre avesse delle amanti occasionali. In lui ben presto la figura femminile si associò alla prostituzione e col tempo il ragazzo iniziò a maturare un odio verso le donne che esercitano il mestiere più antico del mondo. Nonostante le sue stranezze, Schaeffer ai tempi del liceo è fidanzato per due anni con una ragazza che in seguito racconterà di essersi allontanata da lui per i bizzarri giochi erotici ai quali la sottoponeva. Secondo il racconto di un'altra fidanzata e poi sua biografa, Sondra London, aggiunse alle sue perversioni anche il voyerismo. Nonostante la sua psiche alterata e un breve matrimonio naufragato alle spalle, nell'agosto del 1970 Schaeffer si risposò e ottenne anche una laurea in geografia alla Florida Atlantic University. Dopo un mese era poliziotto nella cittadina di Wilton Manor che lo assunse senza un controllo dei precedenti o un test psicologico. Due anni più tardi era nella contea di Martin dove arrivò falsificando la lettera di raccomandazione dello sceriffo di Wilton Manor. 28 giorni dopo però la sua carriera di poliziotto terminava in una cella. Gerard Schaeffer era quello che si dice un serial killer missionario, un pazzo sanguinario convinto di avere una missione, ripulire il mondo dalle prostitute. Qualsiasi ragazza che incontrava su una strada era per lui una puttana che meritava di essere punita e mentre si eccitava sessualmente nell'ucciderla si giustificava credendo di compiere un atto dovuto. Schaeffer verrà condannato all'ergastolo per l'omicidio di Susan Place e Georgia Gissap e la ventina di appelli che l'uomo presenterà negli anni saranno tutti respinti da corti statali e federali. Ma nel tempo la lista delle possibili vittime di Schaeffer è andata crescendo. Nel 1990 l'ex fidanzata Sondra Landon ha pubblicato una raccolta di racconti scritti dal mostro. La polizia ritiene che le descrizioni siano la trasposizione letteraria di crimini reali. Schaeffer negherà sempre pubblicamente queste accuse ma i suoi avvocati arriverà a confessare tra gli 80 e i 110 omicidi. Una ragazza lo crocifissa scriverà in una lettera, un'altra l'ho frustata a morte con una cinghia e l'ho poi ridotta in gelatina con un'ammazza da baseball. E poi ancora, una mia vittima è affogata nel suo stesso vomito mentre mi guardava sventrare la sua fidanzata. Non sono sicuro che conti come un omicidio in più, riesce a scherzare, per poi chiudere la lettera con una domanda mostruosa. Le vittime incinte contano come due omicidi. Le lettere in cui Gerald Schaeffer si vanta di essere il più grande serial killer del mondo arrivano alla fine in mano ad alcuni giornalisti che le pubblicano. Schaeffer intenterà numerose cause per diffamazione ma le perderà tutte. La vita del poliziotto killer si conclude il 3 dicembre 1995 a 39 anni d'età, quando un altro detenuto, apparentemente senza ragione, fa eruzione nella sua cella, lo pugnala a entrambi gli occhi e lo sgozza. La madre di Georgia Gissa definirà l'omicidio di Schaeffer un caso di giustizia in ritardo. Ho sempre saputo che avrebbe ricevuto ciò che si meritava prima o poi, ha detto la donna, solo avrei voluto per il bene di tutti.